Muoversi. Infomobilità in Campania. Sul raccordo autostradale di Avelino per lavori attivo il restringimento di carreggiata fino alle 16 di venerdì 31 gennaio tra l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro e lo svincolo Serino in direzione Fisciano. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino a giovedì 16 gennaio nella fascia oraria 21-17 per lavori attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra Cercola e Somma Vesuviana via Cupa di Nola in tratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi. Per consentire il proseguimento degli interventi di messa in sicurezza dei viadotti in località Parolise sulla strada statale 7 Appia è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra le località San Potito Ultra e Parolise in provincia di Avelino. Il termine dei lavori è previsto per mercoledì 22 gennaio. Sulla tangenziale di Napoli chiusa l'uscita via Cilea dello svincolo Vomero dalle 22 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 gennaio. In alternativa si consiglia di proseguire in direzione di via Caldieri. Acamir muoversi in Campania, Rossella Altamura.